Nella Bibbia ci sono tre piccoli libri dedicati a tre personaggi, Esther, Tobia e Giuditta. Esther e Tobia sono libri meravigliosi, raccontano delle storie splendide in cui dopo tante prove però l'amore di Dio si manifesta in tutta la sua potenza e la sua gloria, quello di Giuditta. A me fino a quando non ho capito un po' lo spirito di questo libro mi ha suscitato e mi suscita tuttora quando lo rileggo delle perplessità perché racconta di una donna, questa donna mette in atto tutti i tipi di astuzie, di cattiverie possibili per ammazzare Oloferne. Lei utilizza se stessa, la sua capacità di essere adulatrice, la sua bellezza, la sua ricchezza, le utilizza per ammazzare un capitano che si chiamava Oloferne dell'esercito più potente che ci fosse al mondo all'epoca di Nabucodonosor. E invece, questo a un certo punto l'ho capito proprio, il contesto qual è? C'è un re potentissimo, Nabucodonosor, che vuole essere adorato come Dio su tutta la terra, non ce ne sono altri, c'è solo lui. Manda un esercito poderoso di 120.000 fanti e 12.000 cavalieri, lo manda a raggiungere le rive del Mediterraneo dalla Siria, da Ninive, per realizzare la potenza del suo nome e della sua forza. Tutti si sottomettono a questo orrore che sta arrivando e che distrugge tutto quello che gli si oppone. Tutti gli si sottomettono meno un popolo, è il popolo degli ebrei, che è un popolo piccolo. E' appena tornato, è da poco tornato in Israele, dopo essere stato disperso, è tornato e si vede costernato. Perché, pensate, 120.000 uomini di fanteria occupano uno spazio immenso. Israele è un posto piccolo oggi e allora era un posto piccolo. E allora, i nobiluomini di un posto piccolino che si chiama Betulia, questi, si riuniscono di fronte perché questa città è stata presa d'assedio dall'esercito di Oleoferne. Non c'è più acqua, non c'è più cibo, i bambini muoiono, le donne vedono questi bambini che muoiono, fanno pressione sui potentati della città. Qua ci dobbiamo arrendere, dovete fare qualcosa, se no moriamo tutti. Meglio essere schiavi di Oleoferne che non morire tutti, morire i nostri figli. In questa situazione i capi di Betulia decidono, vabbè, allora aspettiamo cinque giorni. Se in cinque giorni Dio non ci avrà liberato, ci consegneremo a Oleoferne. A questo punto spunta una donna, una donna vedova, che si chiama Giuditta, che dice ma che state dicendo? Ma che non lo sapete? Dio ci sta mettendo alla prova. Perché quando è che Dio ci ha abbandonato? Quando noi siamo stati idolatri, quando l'abbiamo rinnegato? Ma adesso, adesso no, adesso nessuno lo rinnega, quindi sicuramente Dio ci aiuterà. Questa è una prova, anzi, dobbiamo ringraziare Dio che ci mette in questo momento alla prova, che mette alla prova la nostra fede. Con questa convinzione Giuditta prega Dio e mette in azione un progetto impossibile a realizzarsi. Un progetto che lei da sola, un'unica donna con la sua ancella, vestita bene, chiaramente, truccata, esce da Betulia, va nel campo nemico e dopo tre giorni, quattro giorni riesce, con la sua adulazione, con la sua falsità, con la sua doppiezza, diciamo se la vogliamo mettere così, a tagliare la testa di Oloferne e uscire tranquillamente con la sua ancella, con il paniere che aveva portato, dentro il paniere, la testa di Oloferne. La grandissima truppa di comandata da Oloferne è sgominata da una donna che ha avuto Giuditta fede, come Abramo quando Dio l'ha chiamato nella sua prova di uccidere il figlio, ha avuto fede, così Giuditta ha avuto fede. Israele, sempre nella sua storia, ha avuto fede.